Sono convinta che ci sia necessità di un cambio di passo. La Lombardia non sta crescendo da oltre dieci anni. Ha un indice di competitività che è inferiore all'indice di competitività europeo. Ci sono tante criticità che io purtroppo ho potuto anche vedere nei quasi due anni in cui sono stata ingiunta che vanno affrontate. Quindi sicuramente il tema dei trasporti che affligge soprattutto i pendolari. Ci sono problemi relativi alla sicurezza. È l'ultima regione per investimenti in cultura. Quindi si può migliorare davvero tanto la sanità territoriale, nella quale la Lombardia è cellendo in quell'ospedaliera ma era molto debole, e le liste d'attesa. Per quanto riguarda la sanità territoriale abbiamo iniziato. È solo un inizio. Ed è un inizio che era dovuto, perché le risorse del PNRR ci chiedevano di investire nelle strutture delle case di comunità. E quello è un percorso appena iniziato. Abbiamo iniziato con un numero di case di comunità nel 22, per finire nel 24. Il tema grande delle case di comunità è quello dei medici di medicina generale. Abbiamo iniziato con un certo numero di servizi, ma non sono a regime, quindi andranno a regime nei prossimi tre anni. Ma il problema vero delle case di comunità è quello dei medici di medicina generale, che dipendono dal governo. Io avevo lavorato per un anno e mezzo col Ministro Speranza e col governo per avere un testo che è pronto, è giacente presso il Ministero, che avrebbe dato, e spero darà alle regioni, una leva per poter avere medici di medicina generale che rispondano alle regioni. In questo momento i medici di medicina generale hanno un contratto di 15 ore, di liberi professionisti, di 15 ore alla settimana. Il testo che avevamo elaborato, che era pronto per andare in Consiglio dei Ministri, diceva che da 15 si passava 20 ore in regime di libera prestazione. Se ne aggiungevano 18, quindi diventava come per il personale ospedaliero, e queste 18 ore in regime di parasubordinazione sarebbero a disposizione delle regioni, proprio per inviare i medici nelle case di comunità, nelle periferie più disagiate, nelle valli, nelle montagne, là dove servono. Grazie.